Un commento su questa sconfitta? Sconfitta pesante contro la squadra forte. Peccato perché alcuni episodi sono stati determinanti, soprattutto nei momenti della partita in cui si sono susseguiti. Peccato perché la prima parte eravamo in partita, così come quando abbiamo accorciato le distanze e eravamo ritornati nella partita, abbiamo avuto anche una buona occasione con Arti. Poi chiaramente se fai errori del genere come nell'occasione della prima rete e nella terza li paghi contro una squadra forte come il Tao. Stavate attraversando un buon periodo, oggi invece cosa non ha funzionato? Ha funzionato? Dobbiamo analizzarla in maniera attenta e approfondita per capire cosa non ha funzionato. Di fatto di fronte avevamo una squadra molto forte che secondo me nelle partite che ho visto è stata sicuramente la squadra più forte che abbiamo incontrato al momento. Questo però non vuol dire che non potevamo cogliere punti perché, ripeto, in partita per lunghi tratti ci siamo stati. Ci siamo stati anche bene, secondo me abbiamo fatto anche qualche trama interessante. Chiaramente nella parte, negli ultimi 20 metri, tolto regolanti, abbiamo qualche difiota. Grazie a voi.